Sì, allora è un Nokia che ha dieci anni, la Rodruade è svolta, è ancora 9, che non ha tutto videocamera eccetera. Signor Thomas, volevo mandarli saluti da un signore. Oh vecchio porco! Aspetta, ci mettiamo così perché c'è la luce dietro. Sei perfetto! Che, non vedete? Sei perfetto Paolo, vai! Vecchio lupo! Sente, sente. Sì che sente, vai! Come sei messo, signor Thomas? Sei in piedi o sei coricato? O sei sdraiato? Thomas, tanti auguri di buon Natale, dica il Paolo. Thomas, ho trovato il signore Enrico, ha voluto comunicare con te. Fatti vedere qualche volta, vecchio lupo, suino! Diglielo cosa gli hai detto a quella ragazza di prima. Ci sono due ragazze qui davanti. Mio nonno diceva che se l'uomo perde il vizio delle donne, ha morto subito. Ha vinto quattro volte il coronavirus. Vuoi due secchi? Oh, anche il radopini che ha detto, ha vinto che vuole dare una seccia di sotta pronto. In San Mio cosa è la sotta? È quello che mangi tu le lasagne e i maccheroni. Tu che sei un verro a due gambe, il verro quattro mangia la seccia di sotta.